Noasi in curso dei giassetti di Vriargio del suo 2000 e dei giassetti. Sanità di Moirano in Carbonia. Un'attopia sa scusi in secreto umano sugli antivatto gustumengiano in Carbonia, su superdirigenti del S.A.S.L.U.N.I.C.A. Vulvio Moirano e s'assessore regionale sa sanità di Luizu Arru, pari dei principali direttori del suo sistema sanitario del suo sulcisi. Sul luogo in noi si fu un tattopio auso e sa mina manna di Zerbario, il sindico del suo sulcisi, po' prima sa sindica di Carbonia Paola Massidda, fianta vina sa gustumengiano, se ne sciri in urda della presenza in suo luogo dei su dirigitori in mano del suo T.S., azienda Vossamparo del suo saluti e del suo assessore regionale Luizu Arru. Chistioni bigate in Sattopio esistate a su un cordonò del suo sistema spitalero del suo sulcisi. Accanto un'aranta, su un cordonò di adappo di denni comenta a conseguenza a trasserratasa del reparto su spitalerisi e poliambulatorio su del suo territorio, comenta la S.A.C.R.I. Fulvio Moirano Mattessi. Cronaca di Carbonia Cronaca di S.A.C.R.I. Fulvio Moirano Mattessi. 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 Cronaca di S.A.C.R.I. Cronaca di S.A.C.R.I.